Allora buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, buonasera Pier Giorgio, è un piacere essere qua e saluto insomma tutto il pubblico che è già connesso in modo numeroso, come si suol dire in questi casi. Come stai Pier Giorgio? Benissimo, anzi sono contento di essere qui per la terza volta, il proverbio dice quello non c'è due senza il tre, non so se poi si continua. Ma sì, coniamolo, non c'è il tre senza il quattro. Allora per chi sicuramente tutti insomma conoscono quindi non sto qua a presentare l'ospite di questa sera che mi dispiace non avere qui in presenza ma insomma ci siamo ripromessi di comunque trovare in futuro un momento per portarlo qui ai Cogito Studios. Stasera ci accontentiamo di questa virtualità anche se devo dire su argomenti così anche delicati, io preferisco sempre la chiacchierata vis-à-vis perché secondo me è molto più proficua e molto più anche naturalmente onesto. Cercheremo comunque di fare una chiacchierata il più possibile onesta, autentica su temi su cui sicuramente per Giorgio la vediamo in modo molto diverso. L'antefatto è che io ho fatto uscire qualche settimana fa il video sui pacifinti, quindi sul referendum di Santoro, la marcia di Santoro e via dicendo. Io l'ho commentato con la mia solita verve, quel video ha fatto arrabbiare tante persone, non so se abbia fatto arrabbiare Pier Giorgio oppure se gli abbia fatto alzare il sopracciglio. Fatto sta che ho ricevuto una mail insomma che mi è risultata molto gradita in cui mi ha detto guarda io non la vedo come te, io ho aderito al referendum, se vuoi ne parliamo. E quindi siamo qua quest'oggi a parlarne. Il mio auspicio è che sia una chiacchierata nelle divergenze cercando di comprendere quali sono i presupposti dei punti di divergenza. Perché poi in televisione e in tanti altri contesti non si riesce a capire cosa sta alla base delle opinioni e quindi ci si basa soltanto sulla superficie delle opinioni e quindi gli esplode inevitabilmente tutto quanto e non si capisce. Cerchiamo nella divergenza di fare un po' di chiarezza. Cosa dici? Ci stai? Sì, benissimo, anche se io confesso di non sapere nei dettagli quello che pensi tu, quindi per me è anche più interessante, perché ho visto che hai fatto quel video, quindi mi posso immaginare, essendo un po' di professione, un logico, benché matematico, che se hai fatto quel video magari la pensi diversamente. Però sì, penso che spiegandosi probabilmente si trovano, perlomeno ci si chiarifica, vediamo. Ma poi io sono qui tra l'altro a rispondere a domande, quindi è più facile anche che non invece prendere posizioni senza che nessuno te le chieda. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora io partirei con la prima domanda e vediamo di aprire subito questo dibattito che insomma per chiunque si sia connesso sarà inderente soprattutto la situazione dell'attualità in Ucraina con la guerra scoppiata a Kiev ormai quasi un anno e mezzo fa. Allora, io vorrei partire da questo, perché quando io sono entrato a conoscenza delle opinioni non solo tue ma anche di Alessandro Barbero, di Carlo Rovelli, tutte figure che io credo nei loro dirispettivi campi, insomma avete fatto delle cose più che notevoli, io mi sono fermato e mi sono reso conto di questo, mi sono reso conto che ciò che leggo nelle opinioni espresse da te, che io ho letto, ascoltato anche i tuoi video, vari interventi, quindi quello che appare a me, io sono onesto, è un presupposto che io oserei definire, poi magari tu mi smentisci, ideologico, che è sviluppato in base a quella che è stata la tua storia politica. Cioè nel senso, tu, Rovelli, Barbero, lo sappiamo, storicamente siete cresciuti, siete emersi anche nell'ambito della sinistra intellettuale italiana, quindi fra gli anni 60-70, quindi avete anche sviluppato e maturato nel tempo una visione molto critica, a ragione o torto, poi lo vedremo nei confronti degli Stati Uniti, e io in ogni opinione che ho letto, ho sentito il discorso di Rovelli al primo maggio e anche i tuoi interventi, io bene o male vedo questa patina ideologica, che io sinceramente non condivido, perché pur essendo una persona che ha spesso criticato gli Stati Uniti, poi arriviamo anche un po' a questo, oggi io non mi sento di dire che la guerra in Ucraina sia imputabile a un qualcosa che abbia una diretta connotazione con gli Stati Uniti. Per quanto poi evidentemente nella complessità delle cose che accadono nel mondo, sicuramente possiamo trovare un sacco di concause e correlazioni. Perciò Pier Giorgio io ti chiedo, questo presupposto ideologico, tu lo senti, lo vivi, ce l'hai, oppure mi dici, no Rick, tutto è fregnace. Dunque credo di averlo in questo momento, ma non per le motivazioni che hai detto tu, è vero io sono nato nel 1950, purtroppo per me, e negli anni 60, i famosi poi 68, 69, ero un adolescente, però non ero assolutamente impegnato in politica, anche perché venivo da una scuola tecnica, io ho fatto il geometra, quindi una scuola dove poi ci si prestava poco a fare discorsi politici, anche, anzi, ricordo che credo che fosse appunto il 68, fine o gli inizi del 69, quando andammo poi alla fine a chiedere al preside finalmente se potevamo fare un'assemblea, e quello ci accorse, ci accolse a braccia aperte, ci dice, ah finalmente era qui che vi aspettavo e voi non venivate mai, lui era del psiup, che adesso non c'è più naturalmente, partito socialista di unità proletaria, ti puoi immaginare. Quindi a quell'epoca io non ero assolutamente impegnato politicamente, tra l'altro per carattere io mi sono sempre un po' tenuto alla larga dalle manifestazioni, anche quando ero perfettamente d'accordo, mi ricordo che poi ho incominciato ad impegnarmi in politica verso gli inizi degli anni 70, proprio o meno dopo la laurea o alla fine dell'università, entrando nel partito radicale, radicale, quindi in realtà in una posizione un po' defilata, diciamo così, da quella della sinistra ufficiale, non sono mai stato iscritto a nessun partito, se non quello radicale per l'appunto, mai quindi nel partito comunista, e anche però per esempio in momenti come il famoso, credo che fosse il 14 maggio del 1974, se ricordo bene, cioè quando ci fu la vittoria del referendum sul divorzio, che era un po' stato appunto l'inizio, diciamo così, di questo mio impegno politico, quella sera mi ricordo, mi sono tenuto alla larga dalle manifestazioni, ma è una cosa semplicemente personale, cioè quindi non mi piace appartenere, o meglio, mischiarmi alle folle, ma non perché per elitismo, semplicemente proprio da un punto di vista fisico e così, la mia posizione anti-americana, se così la vogliamo chiamare per semplificare, è nata e maturata negli anni in maniera molto lenta, perché io sono andato a studiare prima e a insegnare poi negli Stati Uniti, sono partito nel 1978 per andare a studiare, sono stato due anni in America, e la cosa divertente è che io avevo una moto, per esempio all'epoca, e prima di partire, naturalmente l'ho messa in garage, su questa moto c'era la scritta USA, quindi addirittura si può quasi dire che avevo in mente il sogno americano, e quando sono arrivato negli Stati Uniti, naturalmente in quei due anni, credo di essermi guardato attorno e di aver visto soprattutto gli aspetti positivi del sistema americano, o meglio statunitense, poi però io ho insegnato per 18 anni negli Stati Uniti, dal 1985 al 2003, e stando lì andavo tutte le stati, ma spesso stavo un anno, a volte due, di seguito, e ovviamente quando stavo lì facevo le vacanze come tutti, e le vacanze spesso consistevano di fare in maniera quasi sistematica delle visite, prima in Messico, poi dopo nel Centro America, poi nel Sud America e così via. E ogni volta che andavo in un paese, naturalmente, essendo un po' appunto col background scientifico, mi portavo dietro un libro di storia, cercavo di capire qual era la storia di questi paesi, e ho cominciato a mettere in dubbio, diciamo così, la mia fede nella bontà del sistema americano, quando ho visto quello che gli americani hanno fatto appunto nel Centro e Sud America, dagli inizi praticamente, dopo la rivoluzione, perché prima era un'altra cosa, era il colonialismo anglo-francese, prima ancora ispano e portoghese, però poi dal 1776 gli Stati Uniti, e soprattutto agli inizi dell'Ottocento, con la dottrina Monroe, hanno, diciamo così, stabilito questo loro dominio sul Sud America. Poi dopo, naturalmente, ho continuato a viaggiare, sono andato per esempio appunto in Oriente, in India, in Cina, in tanti altri paesi, e purtroppo mi sono accorto che effettivamente gli Stati Uniti sono stati, e oggi sono l'unica potenza, diciamo così, mondiale che esistano. Gli Stati Uniti hanno bombardato per la prima volta fuori da casa loro, forse il 1805, quindi trent'anni dopo la rivoluzione, la Libia. Questo è interessante, perché uno penserebbe che si comincia con i vicini, quindi già subito c'era questo afflato, diciamo così, globalista, di andare in giro. Oggi per venire qui mi sono leggermente informato per avere dei dati, molto semplicemente, poi andando a vedere le pagine Wikipedia sugli interventi esteri degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, ed è molto interessante. Gli Stati Uniti hanno fatto dal 1776 400 interventi in stati esteri, non 400 bombardamenti, perché uno per esempio conta l'Afghanistan, uno conta il Vietnam, eccetera. 400 interventi in questi secoli, di cui metà però sono stati fatti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un quarto di quelli, cioè 100, un centinaio, sono stati fatti dopo la caduta del muro e dopo la fine della guerra. Provo a farti... Quindi questo è il motivo, diciamo. Ok, allora, benissimo. Allora, proviamo a intervenire qua e proviamo a mettere un po' di carne sul fuoco. Allora, che gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale si siano dati anche questo ruolo di, si dice, il ranger del mondo, ok? E che abbiano fatto un sacco di casino, un incredibile sacco di casino, con, hai citato il Sud America, ma ovviamente poi citeremo anche la guerra in Iraq che ha destabilizzato enormemente quella zona del mondo, creando anche cose che hanno avuto lunghe code, fra cui l'ISIS, non c'è dubbio su questo. Però la domanda per Giorgio è questa. Perché quando c'è stata la guerra in Vietnam o quando c'è stata la guerra in Iraq, io oggi ho ricevuto un messaggio di un commentatore che mi fa «Eh, ma tu, quando c'è stata la guerra in Iraq, non ho sentito video tuoi». Io gli ho detto «Scolta, non solo avevo 16 anni, però non c'era manco YouTube, cioè non so bene che cazzo avrei dovuto fare durante quell'epoca lì, però vabbè, netto di questo, ok». Andare a Hyde Park sulla cassetta, no? In realtà io nel 2003 sono stato, ho fatto un sit-in davanti all'ambasciata americana, abbiamo fatto delle manifestazioni, perché tuttora credo che uno dei più grossi crimini che si erano stati commessi nell'ambito della politica internaziale è stata quella odiosa menzogna terribile che ha portato peraltro all'accaduta di un regime che per quanto fosse odioso, razzista e via dicendo, era forse l'unico regime laico di quella zona del mondo e che poi ha avuto le conseguenze che ci sono state. E la domanda che ti pongo è questa. perché durante la guerra e lo scopio della guerra in Iraq così tanti erano davanti alle ambasciate americane a protestare giustamente, giustamente chiedendo il cessato del fuoco, giustamente chiedendo che si pagasse il pegno per queste cose qua e ricordiamo comunque c'è stato un pagamento, tra virgolette, comunque tanti i responsabili hanno pagato per vie giuridiche evidentemente, non con la vita o via del genere, però oggi io, Piaggiorgio, non vedo nessuno davanti alle ambasciate russe. Ci sono state dei sit-in qualche giorno fa organizzate peraltro da radicali e da movimenti più, diciamo così, moderati che state poco partecipate. Anche io sono stato coorganizzatore e ho spinto alcuni movimenti che hanno cercato di dire ok ragazzi, ma qualcosa nei confronti delle russe lo chiediamo per la stessa ragione per cui io ho protestato a 16 anni nei confronti del governo statunitense. Io oggi vedo, Piergiorgio, ed è una cosa che mi preoccupa, io vedo quella... Ora, la storia che mi hai raccontato mi fa capire un po' meglio qual è il tuo retroterra nella lettura degli eventi, però io credo che noi in Italia viviamo quella patina ideologica che ho, diciamo così, inizialmente imputato a te e che in realtà io vedo tantissimo, non solo in tanti intellettuali, ma soprattutto nell'opinione pubblica. E allora la domanda che ti faccio, Piergiorgio, è che diavolo c'entra la dottrina Monroe con l'attacco di Putin all'Ucraina? Perché io quando sento le tue opinioni e tu dici, per esempio, parole come espansionismo della Nato, io da un uomo di scienza come te mi aspetto un linguaggio più rigoroso. Noi sappiamo che in termini geopolitici espansionismo significa una cosa ben precisa. Espansionismo è quello che ha fatto Putin in Georgia nel 2008, che ha fatto Putin nel 2014 in Crimea, quello che ha fatto gli Stati Uniti in Iraq. Quello è espansionismo. Però quando si attribuisce alla Nato un termine come espansionismo e lì stiamo facendo un'imprecisione molto grave che convince un sacco di persone che magari non sono informate come te e me, che in realtà, guardate, la Nato, ovviamente cappeggiata dagli Stati Uniti, si allarga nel mondo contro la volontà dei popoli. E invece mi spiace, ma non è così. E quindi questi aspetti, la dottrina dell'equidistanza, né con la Nato né con Putin, in un momento storico come questo, a me, sinceramente, stride tantissimo. Dunque c'è un motivo di fondo, io credo che, o meglio, una differenza di fondo fra l'intervento di Putin in Ucraina e, per esempio, quello che hai citato tu in Vietnam oppure in Afghanistan degli Stati Uniti. Ed è che le guerre, secondo me, si possono dividere in due grandi famiglie. Ci sono le guerre di confine che sono, tra l'altro, quelle che succedono sempre tra nazioni che sono, appunto, confinanti e che hanno sempre determinato i confini di tutti gli Stati. Anzi, oggi spesso si dice, magari poi preciso dopo questo, l'altra faccia, invece, ci sono le guerre, invece, di nazioni, qualunque se siano, che non stanno combattendo oppure cercando di imporsino, appunto, a casa loro o nelle loro vicinanze, ma vanno a farlo molto lontano da casa loro. Cioè l'America che va in Iraq o che va in Afghanistan o gli inglesi che vanno in Afghanistan perché la guerra in Afghanistan che era la quarta che noi occidentali abbiamo fatto nell'ultimo secolo e mezzo, da metà dell'Ottocento. E questo vuol dire, in realtà, è una politica colonialista. Il colonialismo, non è semplicemente l'indipendentismo oppure il tentativo di definire confini che non ci piacciono. Ci sono un sacco di zone in questo momento nel mondo che hanno problemi analoghi. Pensiamo, per esempio, alla Cina e il Tibet. Il Tibet adesso è completamente occupato, ma ci sono problemi, tra l'altro, tra la Cina e il Bhutan, tanto per dire. ci sono problemi in Africa, il polisario combatte da decenni, anche lui, per la propria indipendenza. Ci sono tantissime di queste guerre e sono, secondo me, molto diverse. Per esempio, in India, col Kashmir e col Pakistan, e così via. quelle guerre sono guerre in un certo senso inevitabili fino a quando non ci sarà quello che Einstein preconizzava e si auspicava, cioè un governo mondiale. Fino a quando ci sono divisioni di nazioni, una contro l'altra, o perlomeno una adiacente all'altra, è ovvio che ci saranno sempre queste cose, a meno che, e queste purtroppo sono condizioni che si verificano raramente, che ci siano dei confini naturali. Per esempio, tra la Francia e l'Italia, io parlo di questo perché sono qua a Torino, è un po' più difficile perché ovviamente lì c'è una catena montuosa, le Alpi e così via, ma non appena la catena montuosa declina e allora subito si vede che per esempio il problema di Nizza incomincia a diventare un po' più complicato perché non ci sono confini naturali. Le isole, per esempio, ovviamente quelle hanno la fortuna di avere il mare intorno e così via. Quindi io vedo molto diversamente questo genere di cose. L'invasione di Putin dell'Ucraina può essere considerata per esempio alla stregua di quello che gli Stati Uniti hanno fatto col Messico. Oggi noi ci dimentichiamo per esempio che molti stati degli Stati Uniti addirittura il nome mantengono di messicano, California, New Mexico, come lo dicevano loro, l'Arizona, il Colorado e così via. Così si formano le nazioni. A me non piace questo fatto. Io ho un'idea diversa di come i popoli dovrebbero in qualche modo interagire e convivere. Però fino a quando si fa questo, allora, primo si fanno le guerre, i confini vengono tracciati non da chi ha ragione, bensì da chi è più forte, ovviamente, no? Perché la legge è più forte quella che fa vincere le guerre. E questi confini poi alla fine vogliono essere però preservati. Quando si parla di integrità territoriale, preservare l'integrità territoriale degli stati, io lo trovo un, diciamo così, un progetto, un obiettivo completamente sbagliato da un punto di vista appunto etico. Perché questi confini non soltanto, adesso non parlo di quello tra Lucaina e la Russia, no? Ma più in generale i confini fra gli stati spesso sono stati tracciati appunto o dalla forza o addirittura peggio ancora dai colonialisti tipo, no? In Arabia Saudita e così via. Quindi questo è il primo obiettivo. Poi velocemente ti dico l'altro di modo che poi magari mettiamo. L'altro è invece l'autonomia dei popoli. Questa è una cosa completamente diversa, sono due obiettivi che cozzano fra loro. Se noi vorremmo per esempio dare l'autonomia ai kurdi cosa dovremmo fare? Dovremmo smembrare una buona parte della Turchia, dell'Iran, dell'Iraq, no? Della Siria, no? E ovviamente gli stati che cosa dicono? No? Noi vogliamo preservare l'integrità territoriale perché ce la siamo conquistata con le armi e uno dice sì, però dal punto di vista invece della morale diciamo così e dell'etica i kurdi dovrebbero avere il diritto ad avere una propria nazione, il Kurdistan. In Ucraina c'è anche questo problema. C'è il problema ovviamente dell'autonomia diciamo così delle zone russofone, no? E l'autonomia purtroppo spesso viene considerata per l'appunto come una ribellione, un tentativo di rompere i confini degli stati che poi oltre ad essere stati determinati come ho appena detto sono anche spesso estremamente recenti, cioè sono stati che magari sono stati creati qualche decina di anni fa, magari anche un secolo due, però certamente non vengono dall'epoca di Adamo e Eva. Oggi per esempio ho sentito le dichiarazioni del consigliere politico del presidente Zelensky che dice noi dobbiamo riprenderci la Crimea perché la Crimea è sempre stata nostra e sempre lo sarà io dico va bene poi queste sono le cose che si dicono durante la guerra ma sempre stata loro io vivo a Torino e questa è una cosa che tra l'altro mi ha stupito pochi giorni fa quando sono andato a trovare il sindaco al palazzo di città sono entrato nel palazzo di città e questo palazzo appunto signorile dove ci sta il potere della città e fuori ci sono le lapidi che ricordano i caduti nelle guerre devo dire la verità che mi ero dimenticato che alla fine degli anni 50 dell'Ottocento quando ancora non c'era l'unità d'Italia i piemontesi combattevano in Crimea la guerra in Crimea contro i russi tra l'altro allora sentire dire queste cose la Crimea è sempre stata nostra eccetera mi fa un po' pensare che effettivamente è proprio questo l'atteggiamento di dire noi manteniamo i nostri confini quali sono i confini quelli che ci aveva dato Khrushchev nel 1953 come zone interne ad un'unica nazione che era l'Unione Sovietica quelli sono i nostri confini dobbiamo difenderli con le armi e con i denti a me sembra che bisognerebbe affrontare i problemi ma questo io lo dico non in Ucraina in tutto il mondo i problemi delle autonomie dei popoli che pretendono o richiedono di essere autonomi e che non lo possono fare perché sono costretti appunto a subire invece la preservazione dei confini stabiliti ma allora ci sono ci sono alcune cose su cui vorrei intervenire su questo partendo da quest'ultimo punto Pier Giorgio perché allora il fatto che un territorio non sia un territorio dai tempi di Adamo e Eva o da 30 anni o da 60 anni non cambia il fatto che poi c'è un'aggressione militare e che il mantenimento dei territori in realtà non viene fatto con militarismi così spinti e questo lo sappiamo però questo poi lo tocchiamo in un secondo momento quello che vorrei dire è che ci sono tre trattati che la Russia ha firmato nel 1994 nel 1997 e nel 2007 e la Russia ha violato tutti e tre questi trattati e questi sono trattati che erano stati fatti in ambito delle Nazioni Unite quindi un ambito di diritto internazionale e al netto del fatto che poi noi possiamo storicamente emotivamente intellettualmente dire ma sì vabbè è meglio l'autonomia e viva le autonomie e via dicendo lasciamo che i popoli siano liberi e via dicendo però non possiamo poi ignorare il fatto che qui c'è una nazione che ha violato ripetutamente dei trattati internazionali e che poi invece e che in questo modo poi si trova a invadere violentemente dei territori e via dicendo perché un conto sono i sospetti un conto sono le narrazioni un conto poi sono i trattati internazionali e da che mondo è mondo se vogliamo essere rigorosi dobbiamo guardare i trattati firmati da capi di stato con ambasciatori e con l'egida delle Nazioni Unite e quindi questo è il primo punto su cui poi torniamo quindi si può arrivare anche molto più recentemente rispetto a Khrushchev nel 1953 faccio una piccola errata corrige perché invertire i fattori rischia di essere sempre confuso ricordiamoci che quando tu hai citato la guerra contro il Messico la Repubblica del Texar era una repubblica indipendente furono i messicani a entrare in Texar e gli Stati Uniti poi intervenirono quindi ricordiamoci perché se no sembra sempre che questi Stati Uniti prendono fanno i bulli col vicino ma non fu così quindi il parallelismo con la situazione in Ucraina lascia un po' il tempo che trova però queste sono cose che forse poi possiamo tranquillamente il trattato del 97 peraltro firmato di nuovo dalla Russia in epoca recente andava a confermare gli attuali confini quindi a netto del fatto che poi possiamo discutere perché sì le Repubbliche Basche possiamo discutere delle autonomie di tutti i popoli le spinte autonomiste in Europa non finiranno mai però poi ci sono i trattati e i trattati sono stati violati e allora qui vengo a un ulteriore punto che vorrei sentire discutere da parte tua perché uno degli altri punti che io mi sono trovato a alzare il sopracciglio è quando tu in alcune interviste e in alcuni scritti dici la Nato dopo il crollo dell'Unione Sovietica è diventato un organo un organismo superfluo addirittura dannoso non solo che fatti di espansionismo ma abbiamo appurato che espansionismo non è almeno dal punto di vista geopolitico non si può parlare di espansionismo però mi verrebbe da dire se c'è una nazione come la Russia che per vari motivi storici geografici ideologici decide adesso di violare dei trattati internazionali che cosa sarebbe successo alla Polonia all'Ungheria in questi anni dove c'erano trattati e che questi stati invece facendo parte dell'egida della Nato forse si sono sentiti protetti ora magari un italiano può dire vabbè la Nato la Nato forse possiamo farne a meno perché? perché in realtà non abbiamo la percezione di cosa ha significato e tu ripeto l'hai visto con i tuoi occhi storicamente io l'ho studiato sui libri di storia tu l'hai visto i popoli del blocco sovietico ex blocco sovietico cosa hanno fatto quando quella mostruosità politica che ha compiuto dei massacri enormi e che non è seconda agli Stati Uniti con i crimini contro i popoli che ha diciamo così dominato cosa hanno fatto questi popoli la prima cosa che hanno fatto è detto ragazzi ci serve qualcosa per essere sicuri che questa cosa non si ripeta quindi di nuovo l'Ucraina anche ha una storia non possiamo stare soltanto a dire è la storia della Crimea che un tempo era russa attenzione l'Ucraina con dei trattati ha sancito una unità territoriale che possiamo discutere finché vogliamo democraticamente se è legittima se è da difendere o meno però dall'altra parte dobbiamo renderci conto che l'Ucraina non vuole proprio la Russia perché? perché l'ha già vissuta con la carestia dell'Holodomor e con tutto quello che ne è venuto quindi ecco a me io non posso non accorgere che queste cose stridono tantissimo soprattutto in virtù del fatto di quello che tu mi hai detto adesso tu mi dici se arriverà quello che voleva Einstein che è un ideale bellissimo Pier Giorgio è stupendo il fatto che ci sia un governo mondiale forse ha ragione quello scrittore di fantascienza cinese molto famoso adesso che nel suo romanzo Il problema di tre corpi scrive è probabile che l'umanità non possa diventare etica fin tanto che non arriverà un nemico da fuori e infatti immagina la costruzione di questo governo mondiale quando arriverà un'invasione aliena ok ma netto poi della fantascienza se si vuole veramente un governo mondiale come si può Pier Giorgio con tutta l'antipatia con tutta la critica e io sono molto critico nei confronti del governo di Biden soprattutto in politica interna ha fatto delle cose su cui io non sono per nulla d'accordo quindi sono molto critico e non sono un filo americano che piove dal cielo perché gli va così o perché qualcuno lo paga come ogni tanto mi viene detto come si può non accorgersi in questo caso particolare della disparità enorme che esiste fra la situazione ucraina e quella russa nella decisione della Russia di invadere l'Ucraina e come può un parallelismo col passato di qualunque natura esso sia farci dire e vabbè l'ordine del mondo cambierà perché è questa la cosa che io faccio fatica a digerire te lo dico dunque anzitutto solo un paio di precisazioni in realtà gli Stati Uniti arrivarono fino a città del Messico e discussero a lungo se annettersi l'intero Messico o soltanto una parte poi dopo naturalmente c'è anche rischio perché poi dal punto di vista politico come ben sa Hitler per esempio sapeva Hitler allargare troppo i confini a volte può essere effettivamente qualche cosa di dannoso quindi decisero di fare questo ma questa è una cosa la seconda cosa sono i trattati sai io i trattati internazionali li vedo per quello che sono sono congelamento di situazioni temporanee fino a che le situazioni non cambiano e ovviamente la gente cambia idea o cambia governo eccetera tu dici i russi hanno violato i trattati lo diciamo noi va benissimo questo però un capo di stato occidentale cioè la signora Merkel ha detto lei espressamente che l'ultimo trattato successivo a quelli che hai citato tu cioè quello del 2014 di Minsk era stato firmato con Putin soltanto per prendere tempo per poter armare l'Ucraina questo l'ha detto la signora Merkel io non metto in dubbio può anche darsi che non sia vero che lei inventa per motivi che le possono far comodo e capisci queste cose quando comincia a darle vedere e il motivo per cui poi uno prende una posizione né con uno né con l'altro è perché ovviamente queste cose succedono da tutte e due le parti i trattati si firmano ma non credo che ci sia nessuno che le firma in buona fede le firmi perché sei in una situazione da non poter imporre la tua visione e devi accettare anche quella degli altri lo fanno gli stati occidentali e lo fanno gli stati oltre cortina in particolare la Russia però questo non cambia il fatto che tu dici la Nato io continuo a pensare che la Nato fosse una cosa brutta prima esattamente come il patto di Varsavia cioè che il mondo si fosse diviso in due parti a Yalta che erano in tre in realtà c'era anche in Inghilterra ma poi quella aveva altri problemi e per fortuna dovete poi decolonizzare l'Africa perché non dimentichiamoci che quando la seconda guerra è finita l'impero britannico ancora c'era compresa l'India quindi sai qui stiamo parlando di nazioni che sono le nazioni purtroppo occidentali questa è una cosa brutta che però è il nostro vero fardello che noi ci portiamo sulle spalle nazioni che per cinque secoli hanno fatto esattamente quello che che continuano a fare oggi cioè abbiamo citato prima Anpassan la Spagna e il Portogallo non erano nemmeno i primi perché se pensiamo a quelli che oggi sono piccoli paesi del nord Europa cioè l'Olanda per esempio la Danimarca eccetera ancora prima c'erano loro come potenze coloniali poi appunto la Spagna e il Portogallo poi la Francia e l'Inghilterra poi gli Stati Uniti noi occidentali non ci siamo affatto limitati a farci fatti nostri o al massimo appunto come la dottrina che citavo prima a farci fatti del diciamo così del caseggiato del condominio cioè del nostro continente abbiamo invaso l'intero mondo e questo intero mondo voglio dire ce lo continuiamo a portare sulle spalle per cinque secoli il colonialismo ha imposto diciamo così dal punto di vista militare economico politico la sua influenza sul resto del mondo questa guerra se vogliamo vederla dal di fuori lontana appunto dalle piccole beghe perché poi quello sono io confesso che quando Putin dice questa è un'operazione speciale dal suo punto di vista posso capire benissimo che cosa lui intende è una piccola guerra no sì certo ci sono un po' di morti ma non è certamente quello che potrebbe essere la grande conflagrazione cioè questa guerra in realtà il motivo per cui gli Stati Uniti e l'Europa hanno reagito in questa maniera che si può quasi definire isterica nei confronti di un conflitto che è solo uno di quelli che ci sono oggi in atto e che c'erano già anche allora un anno e mezzo fa di cui nessuno ha mai detto nulla in una maniera per esempio arrivando a chiedere al tribunale internazionale dell'AIA di processare Putin per crimini di guerra dopo sei mesi o otto mesi di guerra quando ci sono state come hai citato tu prima le cose che sono successe in Iraq e in Afghanistan chi mai ha chiesto un tribunale di guerra per Bush e per Blair molti l'hanno chiesto ma nessuno nessuno l'ha data allora quando prima parlavamo solo per finire di quello che tu hai definito anti-americanismo io credo che nel caso mio lo si potrebbe definire più precisamente un anti-occidentalismo io sono contrario al diciamo così all'ideologia occidentale di questi ultimi cinque secoli prima magari era diversa nel medioevo si faceva forse diversamente e i viaggi erano anche diversi il problema è stato la tecnologia mi vuole dire prima quella navale e poi quella militare sono contrari a questo e capisco che questo è il momento in cui una buona parte del mondo ha deciso di dire basta all'occidente e infatti lo si vede da come si agisce per esempio le Nazioni Unite la nostra narrazione fa sembrare che ci siano tutti contro Putin e eventualmente Xi Jinping ma in realtà non è così ci sono un sacco di paesi che si stanno aggregando e questo è il vero problema adesso allora cercando di fare una guerra per diciamo così per interposte persone per evitare di fare quella che prima o poi probabilmente avverrà e che è lo scontro diretto fra chi ha il potere adesso e chi è stupo di vederselo imporre da altre nazioni allora prima una precisazione proprio tecnica faccio un fact checking peraltro da un sito russo la Merkel non ha mai detto che si prendeva tempo per armare l'Ucraina quella è un'interpretazione ho qui le dichiarazioni ufficiali riportate in più siti la firma degli accordi di Minsk data all'Ucraina è il tempo di svilupparsi tra il 14 e il 21 ed è servita a garantire all'Occidente fosse in grado di fornire il necessario sostegno a Kiev c'è un'interpretazione Angela Merkel non ha mai parlato di sostegno militare in nessun modo non specifica nulla di militare in realtà lei dice era chiaro a tutti che il conflitto era in sospeso cioè nel senso gli accordi di Minsk sono stati un certo per prendere tempo ma non c'è mai nessuno infatti le armi a Kiev non hanno cominciato ad arrivare nel 2014 hanno cominciato ad arrivare molto 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 più tardi io dico purtroppo perché in realtà si è tardato si è sottovalutato quello che Putin ha fatto nel 2014 però non ha mai specificato nulla di militare perché anche lì attenzione questa è un'interpretazione poi magari lo intendeva non lo intendeva però non c'è nulla che ci permetta di dire anche perché poi le armi non hanno cominciato ad arrivare solo per precisare io non avevo sentito la Merkel direttamente io ho letto esatto però questo era giusto precisarlo dopodiché entro nel vivo di quello che hai detto Pier Giorgio allora tu mi hai in qualche modo hai appena contraddetto l'inizio del tuo discorso perché tu hai iniziato il discorso dicendo questa è una è una guerra di confine come quella fra Stati Uniti e Messico come quelle tante che ce ne sono e però poi mi finisce il discorso dicendo attenzione perché quello che sta avvenendo è che una parte del mondo sta rigettando questo dominio occidentale ok in realtà queste due cose non vanno bene di pari passo cioè se effettivamente è una guerra di confine e basta allora ti dico beh cioè nel senso allora potremmo persino definire isterica la reazione dell'Occidente ma essendo evidente che non è una guerra di confine che non è una guerra anche per la dichiarazione stessa di Lavrov ti ricordo che a un mese dallo scoppio della guerra Lavrov in una tv indiana cosa che questa è andata completamente sotto traccia nei media italiani perché ovviamente nella confusione mediatica soltanto il rumore fa veramente crea veramente attenzione Lavrov disse in televisione ragazzi c'è un problema l'Ucraina ha sancito dei patti commerciali con l'Unione Europea patti che storicamente erano con la Russia punto la Russia ha perso una sfracca di soldi con l'Ucraina perché l'Ucraina voleva ampliare i trattati con l'Unione Europea e attenzione anche qua mica l'ha fatto col fucile puntato alla testa mica l'ha fatto semplicemente perché è più conveniente nell'ambito di una contrattazione globale che mira a creare un mondo fatto di interscambi e non di invasioni andare a contrattare con colui che ti dà le condizioni migliori per crescere come nazione l'Ucraina sono 15 anni molto prima in realtà del 2008 che continua a guardare a occidente non perché ci siano le spie che fanno le ingerenze ma perché è molto più conveniente commerciare con gli Stati Uniti commerciare con l'Europa che non con la Russia la Russia negli ultimi 20 anni 30 anni nonostante montagne di danaro perché la cosa che non diciamo in questo discorso è che la Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica è stata mi verrebbe da dire fecondata quasi con fiumi di danaro atti a ricostruire la Russia corrotta si dice corrotta ma perché attenzione però anche lì guardiamo bene le cose perché è stata corrotta è stata corrotta perché i funzionari che sono entrati in carica parliamo di Helsing parliamo di tutto quello l'entourage che si è fatto perché quelli che però Pier Giorgio erano parte della erano parte dei quadri precedenti cioè nel senso l'errore vero è stato quello che tantissimi funzionari dell'Unione Sovietica poi sono entrati a far parte di quello che è il sistema politico allora ti credo l'errore è stato quello di dare denaro allora ma è stato quello di corromperli perché l'idea dell'Occidente possiamo dire che l'Occidente è brutto e via dicendo ma l'idea dell'Occidente in quel caso era come quello di far ammodernare la Russia di darle un futuro democratico e via dicendo e che ci piaccia o meno questo non è successo e non è per colpa degli americani è colpa di una cultura che è quella russa a livello politico voglio dire a livello politico che mostra adesso in questi anni quello che è sempre stato il suo obiettivo cioè l'obiettivo di portare avanti l'idea secondo cui per rendersi appetibile nei confronti dei vicini io non posso rendermi più affascinante commercialmente non posso prendere Dostoevsky e farne un'icona pop non posso prendere il cinema russo e cominciare a fare qualcosa che sia appetibile non posso prendere i sistemi industriali russi e ammodernarli negli ultimi dieci anni io poi ti mando anche un link il governo 15 anni il governo di Putin ha distrutto l'industria cibernatica russa ha distrutto l'industria aerospaziale russa ha distrutto qualsiasi ambito di avanzamento tecnologico solo perché ha puntato l'attenzione tantissimo sull'avanzamento militare ora possiamo stare qua e dire eh porca miseria l'occidente con l'Iraq con il Vietnam e sarei anche d'accordo sono d'accordo e va detto e le nostre colpe ce le dobbiamo prendere però da qui a dire che anche questa cosa che è successa è colpa dell'occidente a me sembra molto molto vicino a una fantasia perché in realtà è di nuovo un appiattimento molto occidentalista il fatto di non comprendere che il mondo multipolare non è fatto solo di gente che è stufa degli Stati Uniti ma è fatto anche di gente che ha una visione del mondo che possiamo tranquillare se tu adesso mi dici guarda la visione del mondo oligarchica russa che è fatta di non secolarizzazione e quindi un potere politico che comunque è un po' come Salvini porta sempre il croce fisso anche se poi è storto e tutto quanto una visione multipolare in cui la Cina con un apparato che è comunque un apparato repressivo quindi una visione alternativa che è una visione del mondo se mi dici che questa roba qua a te piace di più io per giorno ti dico ma divertiamoci cioè nel senso va benissimo aspetta un attimo fammi finire poi ti lascio la parola divertiamoci ok però non mi puoi convincere del fatto che questa visione del mondo è prodotta dall'hegeonomia statunitense perché questo è l'occidentalocentrismo più forte che abbia mai sentito è il disconoscimento del fatto che esistono visioni diverse del mondo e il punto è ma le sposiamo oppure no e concludo con una domanda allora concludo tutto questo filotto con una domanda quando tu in un'intervista fatta proprio qualche giorno fa con Michele Santoro hai detto democrazia citando Gandhi sarebbe bello che ci fosse ma Pier Giorgio ma in quale Torino vivi cioè nel senso veramente vivi nella stessa Torino in cui io sono stato due giorni fa al Salone veramente vivi nella stessa Europa che con tutte le magagne che ha avuto però riesce ad avere ancora suddivisione dei poteri riesce ancora a dare diritti civili come in Russia se li sognano da sempre riesce ancora a dare una diciamo così una prospettiva di vita che si slega dal ceto dalla casta e via dicendo veramente diciamo siamo arrivati al punto in quell'anticidentalismo da dire democrazia ma non ce n'è e io li alzo le mani sinceramente non mi convince per niente questo ma tu hai fatto secondo me l'errore appunto che hai già fatto prima cioè di dire di pensare che se uno è né con l'uno né con l'altro poi però se non è con l'uno è con l'altro nel caso dei sistemi politici per esempio tu hai parlato di democrazia e oligarchia io onestamente non vedo tutta questa democrazia in occidente anzi in realtà vedo molto il contrario però questo non significa affatto naturalmente che allora per questo motivo ci sono soltanto terzium non dato ci sono soltanto due sistemi e quindi scelgo l'altro la mia visione dell'occidente per dirla in termini letterari e che è quella di Thomas Huxley nel mondo nuovo le due utopie diciamo così negative di metà del novecento che erano quella di Orwell da una parte 1984 e quella di Huxley dall'altra appunto il mondo nuovo Orwell tutti l'abbiamo identificato l'abbiamo capito contro chi ce l'aveva ce l'aveva contro l'Unione Sovietica e il grande fratello eccetera però l'Unione Sovietica oggi non c'è più mentre invece Huxley ce l'aveva con l'Occidente e con quella società di gente imbambolata per l'appunto che guarda le televisioni che si preoccupa per l'appunto soltanto di essere consumatore o consumatrice che non vede altro se non all'epoca la lavatrice o l'utilitaria e oggi magari che ne so le vacanze in qualche resort o così via cioè sono due sistemi con i quali non si poteva andare d'accordo né con l'uno né con l'altro quando uno avesse chiesto ti piace di più stare in uno con l'altro forse certo in un certo senso quello di mondo nuovo e diciamo così un totalitarismo dal volto umano perché ti prende blandendoti ti intontisce mentre invece quell'altro era appunto col volto crudo appunto dell'Unione Sovietica o del o del potere militare quindi questa è l'idea la mia impressione che la democrazia si appunto quello che citavo i grandi sarebbe una bella idea se ci fosse ma anche persone insospettabili come Rodotà per esempio che è morto da qualche anno ormai che comunque già anni fa diceva in fondo da noi la democrazia che cos'è? è una serie di ritualità noi abbiamo la facciata lui la chiamava così la facciata della democrazia o meglio una democrazia di facciata diceva facciamo i riti andiamo a votare prendiamo la nostra tanto per dire noi dal 2011 al 2022 abbiamo avuto praticamente 12 anni di governi nessuno dei quali rifletteva quello che gli elettori avevano scelto due di questi governi erano stati imposti dal di fuori uno dalla banca europea e l'altro dall'ex presidente della banca europea questa è democrazia una democrazia come quella italiana che nella costituzione dice che il popolo non ha diritto di intervenire nelle questioni di politica estera ed è per questo che io quando parlo di queste cose la prendo alla larga perché intanto poi dal punto di vista personale e individuale non si può fare nulla noi non possiamo nemmeno fare un referendum per esempio tu hai citato prima il manifesto di Santoro sul referendum io l'ho firmato perché appunto come diciamo così l'ho presa di posizione ma si sa benissimo che nessuno di quei referendum può passare perché la corte costituzionale lo bloccherebbe i trattati con gli stati esteri non si discutono e sono semplicemente appannaggio del parlamento dall'altra parte invece l'altro argomento che hai sollevato che è importante e in fondo si può ridurre a questo dice ma tu vuoi negare veramente la bellezza e la grandiosità del mercato di una società di mercato in confronto con società che invece magari non accettano questa presa di posizione e io lo nego lo nego perché in realtà appunto il fatto di dire che le persone preferiscono magari far parte di un blocco come il nostro appunto quello occidentale in cui certo siamo tenuti a bada le nostre idee ce le lasciano dire finché gli fa comodo e poi dopo semplicemente evitano di farcele dire però tutto sommato ci fanno vivere bene io che ho vissuto due anni in unione sovietica quando c'era ancora l'unione sovietica so che da quel punto di vista lì l'unione sovietica non poteva ovviamente competere quindi capisco che e tra l'altro capisco anche quelli che dicono in realtà è il nostro interesse prendere le parti dell'Ucraina e cercare di sconfiggere Putin non soltanto di arrivare a un cessato il fuoco ma quale interesse il nostro interesse economico politico certo se uno è d'accordo con questo interesse con questi obiettivi fa benissimo a stare da quella parte perché come ho detto secondo me questo è un gioco molto più grande tu dici ma c'è contraddizione io non la vedo la contraddizione non c'è contraddizione per esempio tradire gli attentati dell'11 settembre del 2001 erano un atto terroristico fatto da 20 persone dell'Arabia Saudita con la banda appunto di terroristi che però poi è stato preso come l'occasione per fare invece un atto di imperialismo alla vecchia maniera cioè l'invasione di due stati sovrani l'Afghanistan e l'Iraq una spesa di 8 mila miliardi di euro per gli armamenti e per il mantenimento del potere lì e poi dopo 20 anni dopo scappare con le gambe all'aria e qui è la stessa cosa la guerra in Ucraina lo ripeto lo confermo nel senso dopo lo ripeto perché voglio imporre ma confermo la mia impressione è che era una guerra di confine se si voleva la si sarebbe presa come quella non avrebbe fatto grandi pasticci come non l'ha fatto la Georgia che hai citato prima la Cecenia eccetera la Crimea nel 2014 sono cose di confine così perché lo si è fatto adesso e perché con questa reazione persino eccessiva da un punto di vista militare perché sono anni e lo sappiamo da tempo e soprattutto Trump l'aveva messo molto ben in chiaro che la Cina sta prendendo leggemonia in questo mondo e leggemonia che è stata per 30 anni unicamente governata dagli Stati Uniti perché fino alla caduta del muro c'erano almeno due superpotenze poi ce n'è stata una sola e adesso ce n'è una seconda che usa mezzi molto diversi molto più subdoli cioè la penetrazione economica cioè sta giocando con le nostre armi nostre nel senso dell'Occidente e non con le invasioni militari e si sa che prima o poi si dovrà arrivare alla resa dei conti con la Cina in parte la Russia è un tentativo per l'appunto di indebolire la Russia come stato perché poi potrebbe essere o avrebbe potuto essere un alleato della Cina e prima o poi si arriverà allo scontro diretto se non si riuscirà ad evitare solo un'ultima postilla per quanto riguarda le armi tu dici che Putin preferiva spendere i soldi negli armamenti invece che nel mercato interno sai le cifre delle armi secondo me sono molto pericolose da citare perché sono ufficiali prima della guerra quindi fino a un anno fa adesso poi le cifre di quello che veramente si è speso lo sapremo tra qualche tempo in questi anni ma fino agli inizi della guerra al mondo si spendevano 2000 miliardi di dollari in armamenti 2000 miliardi se però uno guarda com'erano distribuiti questi armamenti 800 miliardi li spendevano gli Stati Uniti ha capito 40% delle spese militari mondiali da un'unica nazione che sono gli Stati Uniti 400 miliardi li spendevano gli Stati Europei insieme l'Europa e gli Stati Uniti cioè la Nato spendevano il 60% degli armamenti di tutto il mondo compresa la Cina sai quanto spendeva la Russia 60 miliardi 20 volte meno della Nato e questo è il motivo per cui questa guerra tra l'altro a coloro che sono magari ingenui può apparire come quasi una vendetta dice Putin credeva di essere una superpotenza militare invece guarda come sta faticando ma è ovvio che sta faticando da una parte c'è una certa quantità di armamenti dall'altra parte ce n'è 20 volte tanto e infatti quanto è durata l'invasione dell'Ucraina tre giorni con tutto questo 60 mila chilometri di carri armati che arrivavano verso Kiev e poi si è visto che cosa aveva in casa dal punto di vista militare l'Ucraina questo va benissimo cioè appunto poi si sapeva che queste cose succedevano però quando tu guardi a queste cifre quando poi guardi anche la distribuzione della popolazione perché la Nato tutti insieme l'Europa e gli Stati Uniti sono al massimo il 10% del mondo però il 10% del mondo che consuma il 60% degli armamenti e io la vedo un po' più grande però anche qua attenzione perché allargare i numeri va bene però allora allarghiamoli per bene perché il punto essenziale della spesa militare non è tanto la spesa militare come numero assoluto ma è in che proporzione la spesa militare poi ha spese legate ad altro perché di nuovo attenzione attenzione il punto essenziale cioè l'Occidente spende quella cifra per gli armamenti per la difesa vi dicendo perché noi abbiamo l'alleanza Nato che addestra persone ha armamenti quindi lo sappiamo bene l'abbiamo detto prima è il ranger del mondo quindi non ci si può aspettare diversamente da questo però poi tutto quanto viene controbilanciato nel senso da un'industria che non ha nulla a che vedere con l'armamento un'industria tecnologica non militare e via dicendo che la Russia sia sempre sognata quindi il punto non è tanto 60-400 il punto è la proporzione fra 400 militari in occidente e una altra cifra assolutamente incalcolabile legata a tutto il resto dell'ambito produttivo industriale tecnologico e via dicendo in Russia invece abbiamo 60 e tutto il resto è zero cioè nel senso è la proporzione il punto essenziale da comprendere qua ed è per questo che io prima ho detto questa guerra è stata legata a un fattore meramente economico cioè l'Ucraina ha cominciato a volgersi a ovest e non perché sia innamorata del mercato e via dicendo ma perché perché il mercato funziona come Giorgio ma Piero Giorgio ma il mercato il mercato il mercato il mercato il mercato non funziona il mercato è ciò che permette a noi in questo momento di avere questo interscambio di idee e dove non c'è il mercato c'è l'avvelenamento da Polon sì la Plutone stavo dicendo è un po' più violento da Polonio da Polonio da Polonio in effetti c'è però il punto da comprendere è che è sempre bello prendere e additare il mercato come cattivo però guarda caso tutti i paesi in cui la mortalità infantile ha cominciato a decrescere in modo drastico l'occupazione femminile ha cominciato ad alzare i diritti civili sono tutte le nazioni che sono entrate poi nel libero mercato ora vuoi dirmi che ti sta antipatico il libero mercato perché tu ti riconosci in una visione del mondo va bene però andiamo a dirlo a tutti quei paesi come anche l'India che nel libero mercato porca miseria si è tuffata a piene mani i cui figli oggi vedono i nonni che facevano la fame i genitori facevano quasi la fame e loro adesso riescono un po' a emanciparsi vallo a dire a loro che il libero mercato non è desiderabile di nuovo il popolo ucraino ci piaccia o meno democraticamente negli ultimi anni si è volto a occidente perché vedeva in quello un modello di vita che permetteva loro di emanciparsi da un certo modello invece novecentesco se non ancora precedente e questo è un punto essenziale allora di nuovo in un mondo dove c'è una spinta economica per quanto fastidiosa per quanto imbambolatrice che però permette alla maggior parte delle persone di emanciparsi e fare una vita in cui la violenza decresce e il benessere aumenta lo preferisco rispetto a una nazione che non avendo fatto un passo in avanti in questo secolo ha l'unica soluzione di prendere e invadere militarmente questo mi sembra molto importante da dire questo non è ideologico è semplicemente il fatto che se io adesso avessi un figlio io non ho figli ok ma se io avessi un figlio e ho una figlia ancora peggio e mi venisse data come quell'esperimento mentale perché ancora peggio perché ancora peggio adesso ti dico se avessi una figlia e dovessi fare l'esperimento mentale alla John Rawls e dire a occhi bendati non sapendo la condizione il secolo e via dicendo ma lo fai nascere in Europa o in Russia e ma ti dico ma immediatamente in Europa cioè nel senso il modello di vita è completamente diverso però questo vabbè questo ci porta un po' fuori fuori dal seminato su una cosa voglio però appunto all'attenzione e io non posso sentire in un discorso storico accurato l'affiancamento della guerra in Afghanistan e quella in Iraq che io come ho detto quella in Iraq è stata un assoluto abominio che probabilmente pagheremo ancora per molto tempo da un punto di vista sociale e anche etnico in quelle zone ricordiamoci che la guerra in Afghanistan è nata non soltanto sotto l'egita delle Nazioni Unite perché c'è stato l'ONU che ha fatto delle deliberazioni l'Afghanistan è stato è stato richiesto al governo afghano e ai talebani di consegnare quei terroristi che erano sauditi e si erano nascosti con tracce evidenti nel territorio afgano l'Afghanistan ha rifiutato questo aspetto poi possiamo discutere sul fatto che dopo i primi anni di conflitto è stato fatto un pasticcio e il ritiro è stato disastroso e anche lì io ci ho fatto dei video e non ho nessun tema di dire è stato veramente disastroso gli ultimi dieci anni di guerra è stato un macello però anche lì attenzione perché se noi andiamo a guardare poi i dati fattivi noi ci accorgiamo del fatto che l'Afghanistan nel momento in cui c'è stata l'occupazione americana era una nazione in cui l'istruzione è aumentata in cui il benessere pro capite è aumentato cioè nel senso e io non voglio incensare questi aspetti voglio soltanto dire che c'è un modello di mondo che sia hai ragione un modello di mondo che contrasta la visione occidentale però porca miseria per Giorgio che mondo povero è un mondo teocratico è un mondo che vuole la religione a capo di tutto che non vuole divisione dei poteri che vuole la destinalità ultima come orizzonte di vita di ogni individuo e a me non sembra una visione particolarmente ricca e allora e concludo io sinceramente certo che lo vedo quel conflitto di ideologie e mi chiedo un uomo di scienza come te come possa per il suo antioccidentalismo non accorgersi che l'altra visione del mondo è una visione in cui gli Einstein è improbabile che sarebbero emersi la PCR è improbabile che sarebbe stata scoperta perché l'interscambio perché il libero mercato mica significa soltanto tutti davanti al grande fratello il libero mercato significa anche costruire il James Webb Telescope che è il coordinamento internazionale di un sacco di scienziati che vivono del libero mercato che anche interscambio di idee e che in quell'interscambio devono avere il supporto economico che soltanto una società che sia affacciata a questo secolo può dare e certamente non la Russia e infatti anche i russi che hanno partecipato al progetto James Webb lavorano in Europa quindi a me sembra che sia che si rischi sempre questo rovesciamento delle realtà e sia molto molto paradossale dunque a difesa diciamo così della scienza russa ti devo dare una delusione perché le medaglie Fields che come tu sai sono il premio Nobel per la matematica noi italiani per esempio ne abbiamo due bombieri e figalli e i russi sono credo la prima o la seconda nazione in numero 12 o 13 medaglie Fields dal punto di vista del pensiero perlomeno quello teorico come quello della matematica non c'è assolutamente nessun impedimento non è che anche gli scacchisti anche gli scacchisti è un iper no no è un iper consumatore allora poi dopo fa meno fa meno ricerche e così via la visione che tu hai dato del mercato però quella sì che è fantasiosa perché io capisco benissimo che se per esempio porto la televisione in Nigeria tanto per dire ieri ero al salone del libro e sono andato a sentire la conferenza di Soinka il premio Nobel della letteratura per il suo ultimo romanzo e che ci ha fatto vedere che tipo di nazione è la Nigeria ma questi che guardano la televisione certo che sognano di diventare europei e di entrare nel mercato però non sanno forse che non è che nel momento in cui uno arriva nel mercato semplicemente si aggiunge e anche lui diventerà ricco come gli altri e tutti quelli che entrano si arricchiscono e tutti vivono felici e contenti il mercato oggi secondo i rapporti Oxfam ha prodotto una situazione che è 20 volte peggiore di quella che c'era agli inizi del novecento quando Wilfrido Pareto il nostro economista si era accorto che c'era una divisione circa tra 20% della popolazione mondiale che consumava l'ottanta per cento delle risorse e viceversa tra l'altro perché poi l'ottanta per cento consumava il 20% oggi con tutti questi decenni secoli e mezzo diciamo due secoli di capitalismo la situazione è diventata ancora peggiore i rapporti Oxfam ci dicono che l'uno per cento della popolazione mondiale l'uno per cento aveva il novanta per cento della ricchezza novantano perdono 99 per cento della ricchezza cioè la ricchezza del mondo è divisa in due parti una parte ce l'aveva l'uno per cento della popolazione che sono poi tra l'altro vuol dire quanto sono 800 milioni credono e dall'altra parte invece l'altra metà ce l'ha il 99 per cento dopo i due anni di pandemia e un anno di guerra la situazione è diventata che l'uno per cento che prima aveva il 99 per cento adesso ha due terzi è aumentata addirittura di più ci sono 20 persone al mondo che hanno la stessa ricchezza della seconda metà del mondo 5 miliardi 4 miliardi di persone questo è il capitalismo allora certo che coloro che vivono di questo capitalismo e che poi ovviamente sono coloro che tra l'altro hanno in mano i mezzi di comunicazione i giornali le televisioni eccetera ti dicono vedete noi ci stiamo arricchendo noi viviamo bene ma in realtà anche all'interno dell'occidente perché quell'uno per cento non può essere tutto 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 l'occidente non perché noi non siamo l'uno per cento siamo il 10 per cento in occidente vuol dire che una buona parte dell'occidente fa la fame o perlomeno non vive così agiatamente come i ricchi e questo vuol dire allora che quest'idea che bisogna tutti correre alla ricchezza perché poi tutti ci arricchiremo e secondo la teoria cosiddetta della percolazione qualche briciola cade dalla tavola e gli altri poi mangiano anche così in realtà questo è stato il grande fallimento del capitalismo fallimento poi tra l'altro che è fallito anche nella sua visione più colonialista diciamo degli ultimi dell'ultimo ventennio cioè quello che si chiamava la globalizzazione cos'era la globalizzazione tu magari la vedi così positivamente dal punto di vista di portiamo il mercato negli altri negli altri paesi la globalizzazione ormai persino gli industriali come De Benedetti e altri lo dicono e lo ammettono è stata semplicemente andare alla rincorsa della forza lavoro a minor prezzo provocando da una parte disoccupazione in occidente quindi rendendo appunto più povero l'occidente in buona parte dei lavoratori ovviamente non di quelli che investono e che sono ricchi e dall'altra parte andare a sfruttare semplicemente dal punto di vista del lavoro la forza lavorativa del terzo mondo ed è a questo che secondo me ormai ci si sta ribellando tu hai citato prima gli stati teocratici ma scusami il BRICS dove sono teocratici? Brasile Russia India Cina e Sudafrica l'India va bene certo sicuramente è un paese molto religioso ma non è teocratico non è governato dagli Ayatollah e così via questi cinque paesi che adesso tra l'altro stanno cercando di fare una moneta comune che sia poi l'analogo dell'euro per cercare di bypassare il dollaro che è stato imposto a Bretton Woods dopo la seconda guerra mondiale priva di questa guerra il 99% delle transazioni veniva effettuate in dollari adesso fortunatamente si comincia piano piano è pur sempre piccola la percentuale perché la maggior parte delle transazioni avviene in occidente ovviamente però questo è quello che vogliono questi paesi l'Arabia Saudita addirittura il Venezuela la Colombia e l'Argentina si stanno si stanno mettendo da quella parte si capisce che allora forse è quello che dobbiamo guardare allora poi tu mi dici vuoi stare da una parte o dall'altra e io ti dico certo che se parlo dal punto di vista del mio interesse preferirei che il mondo fosse tutto come è da noi che tutti fossero ricchi che vivessimo tutti come viviamo io e te che possiamo permetterci appunto di discutere di queste cose la sera e poi dopo ce ne andiamo a fare i fatti nostri ma purtroppo non è così una grossa parte del mondo è sfruttata ed è sfruttata da noi e allora io non ci sto soltanto perché non voglio agire per il mio interesse privato anche se poi tra l'altro diciamoci la verità qualunque cosa io dica poi dopo non è che io me ne migro e mi vado a vivere in Nigeria per pentirmi diciamo così ed espiare le mie colpe di occidentale che vive nel benessere io dico quello che penso e dico certo sarebbe meglio che non avessimo questo nostro atteggiamento che non cercassimo da cinque secoli per l'appunto di invadere gli altri politicamente economicamente culturalmente e così via e che il mondo fosse effettivamente un po' meglio distribuito per esempio noi siamo preoccupati ah scusami perché se no c'è il senso allora hai detto tantissime cose quindi ci sono due aspetti che l'Oxfam non cita mai allora il primo è che dovremmo ricordarci che in questa forbice di diseguaglianza che come vedremo poi in realtà adesso ti porto un dato nudo e crudo dell'ultimo triennio si è allargato molto meno rispetto a come di solito venne detto però ricordiamoci che nel periodo prepandemico quindi fino al 2019 non c'è mai stato un abbassamento così forte e drastico in 30 anni di tempo delle persone che sono al di sotto del sogno di supervivenza quindi questo cosa significa certamente che ci sono e lì sono cicli è sempre stata così la storia mica il capitalismo a farlo quello quello è il ciclo produttivo in ogni ambito succedeva anche nel medioevo basta guardare i cicli di mercato funzionano così c'è sempre la forbice che si allarga che rende i ricchi più ricchi i poveri più poveri e poi c'è un restringimento questo è da sempre infatti viene chiamato se non sbaglio è proprio breath economy breath viene chiamato questo dagli anglosassoni però ricordiamoci che quello che non era mai successo era che in termini sia assoluti che di percentuale la quota di popolazione che stava al di sotto della soglia di sussistenza non è mai stata così bassa non è mai stata così bassa e non è mai arrivata a una quota così bassa poi c'è stato ovviamente un incremento durante la pandemia perché i poveri sotto soglia di fame e sussistenza sono cresciuti di circa 80-90 milioni nell'anno della pandemia perché ovviamente in quell'anno crollando le economie sono venute meno moltissime ONG sono venute moltissimi venute meno moltissimi progetti che invece cercano di portare l'acqua corrente e via dicendo tutti i progetti per portare fuori le persone adesso è di nuovo in ripresa quindi se da un lato io posso dirti certo è fastidioso che i ricchi siano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri dall'altro ti dico però ricordiamoci che il grande trionfo dell'economia di mercato è il fatto che ha portato fuori dalla soglia di sussistenza un numero incalcolabile di persone che soltanto 100 anni fa sarebbe stato utopistico anche solo immaginare e questo è un punto molto importante preferisco sinceramente sapere che c'è una quota sempre in diminuzione di persone che muoiono di fame e che quelle persone poi quando escono da quello stato dati alla mano hanno molte più possibilità di uscire anche da quello stato di minorità economica perché? perché quando tu non devi curarti del fatto che non sai cosa sarà sul piatto questa sera hai anche l'energia mentale per cominciare a fare dei progetti un po' più ampi quindi prima cosa seconda cosa io dati alla mano nel biennio 2020-2021 l'1% più ricco ha incamerato il 63% dell'incremento di ricchezza netta globale del biennio 2021 il 99% più povero ha incamerato il 37% dell'incremento di ricchezza netta globale nel biennio 2021 il 90% più povero ha incamerato il 10% dell'incremento quindi questo cosa significa? significa che se io vado a guardare proporzionalmente quella forbice non è come la dice l'Oxfam in realtà c'è una forbice molto più complessa in cui in diversi bienni e con diversi parametri tu hai un incremento comunque più ampio di quella zona di grigio che ricordiamoci fra l'1% della popolazione super ricca diciamola così e il 99% non è un fattore 0-1 è una sfumatura di grigia in cui in quel 99% c'è un sacco di gente che in realtà incrementa di anno in anno la propria ricchezza di nuovo Pier Giorgio come facciamo a pensare a un mondo utopistico in cui da un momento all'altro tutti quelli che dieci anni fa erano di fatto nel terzo mondo adesso vengono fuori industrializzati è impossibile è un processo molto lento ma è indubitabile numeri alla mano che da questo tipo di visione del mondo molte più persone hanno cominciato a dire ok della mia vita posso fare qualcosa di più rispetto a procacciarmi il cibo per questa sera e qui voglio arrivare a posso solo commentare questa cifra perché tu dici è molto meglio guarda che questo vuol dire che è molto peggio perché se fosse veramente così che l'1% ha metà della ricchezza e l'altro 99% ce l'ha l'altra metà della ricchezza ma distribuita in maniera uguale vabbè starebbero male ma il fatto che non sia distribuita in maniera uguale nel 99% vuol dire che in realtà in quel 99% c'è un sacco di gente che non ha quasi nulla no c'è un sacco di gente che invece magari è vicina all'1% e questo è il problema poi ti mando io qui ho sotto proprio il rapporto Oxfam le aree che contano no ho proprio sotto qui il rapporto Oxfam quel dato che hai detto è assolutamente impreciso non è quello il dato però veramente se ci incartiamo su questi numeri qua poi non ne usciamo più io vorrei arrivare arrivare a un ulteriore e poi magari anche l'ultimo punto perché vedi l'obiezione che tu hai appena fatto quella appunto di questa disuguaglianza di nuovo che si può discutere a lungo secondo me porta con sé una visione del mondo che 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 perdonami adesso non voglio essere però io ho letto delle cose che hai scritto e detto e che mi sono sembrate retorica da Miss Italia non ti sto dando la Miss Italia ok voglio soltanto dire che sarebbe ottimo sarebbe ottimo sarebbe un mutamento molto fluido del mondo ma il punto è io quando ho letto le tue dichiarazioni e sentito anche le tue dichiarazioni sul discorso del disarmo a me sembra che tu Rovelli Barberi dicendo quando parlano per esempio del concetto di disarmo portino avanti un'idea di un mondo idealizzato che ti dico ma sì ma chi è che non lo sposerebbe ma chi è che evidentemente cioè l'idea che in realtà bisogna piano piano o velocemente cancellare tutti gli armamenti togliere testate atomiche e arrivare a una pacificazione globale io non credo di aver mai detto quello io guarda c'era c'era un un pezzo quello che hai scritto per la stampa quando hai commentato Rovelli tu hai commentato il discorso di Rovelli citavo Einstein sulle bombe atomiche sì quella era la sua idea ma sulle bombe atomiche certo il disarmo nucleare è una cosa ma non credo che il disarmo il disarmo convenzionale cioè immaginare che ci sia un mondo senza armi e questo vorrebbe dire mettersi semplicemente nelle mani di chi invece le armi in ogni caso le terrebbe ma guarda che la stessa cosa vale per tu sei cresciuto nell'epoca della cosiddetto MED Mutual Assured Destruction ok e chiunque abbia un attimo studiato o vissuto questi aspetti lo sa perfettamente che il punto essenziale di questo mondo da un punto di vista militare facciamo un attimo i realisti è che è proprio in virtù del fatto che ci sono delle potenze atomiche che nessuno attualmente utilizzerebbe la bomba atomica perché non c'è possibilità strategica non c'è prospettiva e non c'è visione secondo cui quando uno lancia una bomba atomica gli altri non rispondano perché c'è il cosiddetto la tripartizione della bomba atomica cioè la bomba atomica non è più soltanto quella che parte dai silos sottoterra ci sono i sottomarini ci sono ovviamente i B-52 o chi per essi quindi c'è nel senso anche il discorso di dire disarmo nucleare via dicendo in un momento del genere dal mio punto di vista va a corroborare anche agli occhi della popolazione che magari di questi argomenti non ha studiato e via dicendo va a corroborare un'idea molto semplicistica che ovviamente poi ha un impatto sull'idea mandiamo le armi a Kiev perché sembra che mandare le armi a Kiev sia sia un tentativo di alimentare la guerra e attenzione qua voglio voglio arrivare voglio arrivare su questo ciò che più di qualsiasi altra cosa mi ha disturbato in questi mesi nelle letture che ho fatto è l'idea che l'invio di armi a Kiev in questo momento sia una sorta di scelta che ci porta ad escludere la via diplomatica allora su questo io vorrei puntare l'attenzione Pier Giorgio perché ogni volta in cui sento parlare te, rovelli e via dicendo mi rendo conto che ci si dimentica in modo totale il fatto che a inizio guerra con mediazione della Turchia peraltro Erdogan voleva farsi bello ci sono stati dei tavoli diplomatici in cui l'Ucraina ha mandato tre ministri sottosegretari e persone del gabinetto cioè decisori e la Russia ha mandato per tre volte gente di quarto e quinto ordine non decisori e aggiungiamo a tutto questo la Russia ha ricevuto persino quel piano di pace ok cinese che piano di pace vabbè lasciam perdere era un piano che in realtà era totalmente favorevole alla Russia perché fondamentalmente diceva basta sanzioni basta armi a Kiev riconoscimento territoriale dei territori acquisiti e stop questo era il succo connesso annesso un'idea di basta basta egemonia dell'occidente e via dicendo persino a questo che era un documento puramente programmatico quasi di pura propaganda interna la Russia ha detto grazie Xi Jinping ma no ora la domanda che ti faccio è questa di fronte alla guerra fatta da Putin in Ucraina o diciamo vabbè l'Ucraina può soccombere ok l'Ucraina può essere pappata da Putin e via dicendo il governo ovviamente Zelensky verrebbe ammazzato finirebbe in esilio e tutto quanto insomma l'Ucraina finirebbe per essere parte della Russia così come l'era in passato riportando alla memoria cose che gli ucraini stessi non vorrebbero rivivere oppure dall'altra parte c'è questa cosa c'è l'idea che si possa raggiungere la pace in un modo diverso attualmente rispetto al sostegno militare a Kiev e a me questa cosa pare boh non riesco a capire in che modo si dovrebbe arrivare a pacificare la situazione secondo te perché io da quello che scrivi e scrivete o dite io non riesco a capirlo ma io credo in che modo secondo me non importa nulla io penso che alla fine le cose avverranno nella maniera più ovvia cioè che ad un certo punto ci sarà il cessate il fuoco e che questo cessate il fuoco diventerà ovviamente non un trattato di pace quindi la situazione rimarrà in sospeso e andrà avanti per 10 20 100 anni la Corea per esempio è finita così non c'è mai stata una pace in Corea le due Coree sono divise in due e il confine è congelato in Palestina per esempio è dal 48 che si sono fatte guerre i palestinesi vivono soprattutto dal 67 poi il 73 vivono ormai da più di 50 anni in quella situazione e quello che il tentativo dei politici è proprio quello di dire intanto i problemi non si possono risolvere meno che mai li vorremmo risolvere cercando di vedere se effettivamente c'è qualcosa di giusto da fare da concedere oppure da non concedere o da richiedere e l'importante è congelare queste cose la Cina per esempio col Tibet ha fatto questa cosa l'ha invaso ed è lì dentro gli Stati Uniti per esempio a Porto Rico gli Stati Uniti si sono presi in Porto Rico nel 1898 sono passati 125 anni e continuano ad essere una colonia tra l'altro molte delle nazioni europee e questa è la cosa che in un certo senso mi fa più sorridere se non facesse arrabbiare molte delle nazioni europee sono tuttora potenze coloniali la Francia ha colonie in tutti e cinque i continenti cioè è una cosa incredibile ha colonie in America Martinique Guadalupe ha colonie in Africa la Reunion ha colonie in Australia la Caledonia in Polinesia Tahiti e così via e questi vengono a dire noi siamo le democrazie contro le autocrazie ma una potenza coloniale ma non dovrebbe nemmeno avere voce in capitolo l'Inghilterra non ne parliamo hanno un capo di Stato che è capo di Stato di 13 nazioni ancora tra cui il Canada e l'Australia siamo a questi livelli gli Stati Uniti hanno un sacco di colonie anche se non le chiamano così appunto Puerto Rico è una molte le hanno annesse semplicemente le Hawaii eccetera così succede nel mondo ad un certo punto si fa un cessato il fuoco se si riesce si mantiene in quella situazione altrimenti poi si ricomincerà una guerra tra dieci anni o tra cinque anni e così via quindi da questo punto di vista non vedo poi quale sia il problema la domanda essenziale è chi è che fa il cessato il fuoco in merito a cosa cioè nel senso se tu perché da mesi è quello che dicevo prima i confini che sono stati fatti degli stati sono sempre stati fatti così cioè li fa il più forte sul campo è la forza ho capito ho capito non si vuole ragionare non si vuole avere una soluzione ragionata e si può avere soltanto una soluzione di forza e infatti il motivo per cui per esempio c'è stata no ma aspetta ma quello per esempio che è stato fatto a Bakhmut cioè di distruggere un'intera città da una parte dall'altra che cos'è è semplicemente un tentativo di fare una piccola Stalingrado in quella situazione e di congelare i confini tra l'altro però e c'è una cosa da dire tu hai citato tutte queste cose questi primi colloqui di pace agli inizi della guerra anche perché i colloqui di pace erano andati avanti anche prima della guerra e da quando è arrivato Zelensky noi ci dimentichiamo questo fatto perché lo conoscevamo poco ma Zelensky è stato eletto con un programma di pacificazione ora cosa vuol dire quando è stato eletto nel 2019 che cosa bisognava pacificare il Donbass e il Luhansk erano paesi o regioni diciamo così in cui si combatteva già la guerra già c'era e lui è arrivato promettendo la pace quindi questo è il primo paradosso e il secondo paradosso è che oggi Zelensky è diventato a mio parere naturalmente e non credo che tu sarai d'accordo la persona più pericolosa del mondo il pericolo pubblico numero uno perché è la persona che sistematicamente dagli inizi della guerra sta cercando di trasformare quel conflitto che è appunto un conflitto di confine tra lui e Putin ovviamente tra l'Ucraina e la Russia in un conflitto mondiale sta cercando in tutti i modi e piano piano sta avanzando agli inizi le armi erano semplicemente quelle che già c'erano e poco più poi hanno cominciato ad arrivare i carri armati ora arriveranno gli F-16 e poi che cosa deve arrivare dopo questo ad un certo punto arriveranno le armi atomiche si faranno basi con armamenti nucleari in Ucraina e si continua a correre verso il burrone prima abbiamo citato Einstein e Bertrand Russell perché l'articolo che avevo fatto era il manifesto Einstein e Russell e Russell faceva proprio quell'esempio preso dal famoso film con James Dean ti ricordino quelli dove correvano verso il burrone sulle macchine poi giocavano a chi usciva per ultimo prima di cascare giù e questo è un gioco molto pericoloso è il gioco degli armamenti è il gioco appunto dell'escalation militare che Zelensky continua a chiedere non si sa quanto volontariamente lui in prima persona o quanto invece involontariamente spinto da Biden o da altri questo sai si può si può immaginare però i dittici non ce lo vengono a dire a noi a differenza delle riunioni di vertici in Russia le riunioni che ci sono state Biden-Zelensky così come Zelensky-Meloni non erano a porta aperte ma oddio però le dichiarazioni ci sono ci sono delle dichiarazioni ufficiali che ci portano a dire le dichiarazioni sì ho capito Pier Giorgio comunque rimane il fatto che l'Ucraina ha passato in Parlamento una risoluzione che dice che non si può trattare se non l'abbandono completo della Russia dall'Ucraina questo è una legge diventato e quindi sai è molto difficile fare trattative di pace in quelle condizioni quando uno continua ad avere sempre più armi e poi quando ha stabilito per legge che non si può trattare hai visto cosa ha detto a Papa cioè gliel'ha detto e gli dice lei in Santa Tà si faccia il suo lavoro ma io non accetto nessun piano di pace che non sia il mio e il mio è i russi se ne devono andare Putin deve essere processata là eccetera beh certo che se questa è la prospettiva crediamo che si andrà molto avanti e sarà molto pericoloso guarda io trovo allora che la situazione sia pericolosa non c'è alcun dubbio trovo veramente difficile comprendere come tu possa contestare il fatto che a Putin venga richiesto un tribunale internazionale e poi mi definisci Zelensky come la persona più pericolosa del pianeta io voglio dire cioè nel senso ma pericoloso è un fatto oggettivo è un fatto oggettivo il tribunale è un fatto morale è diverso è una persona in pericolo la legge che tu hai appena citato ma infatti scusami ho dimenticato di fare un inciso che forse andrebbe bene fatto dal suo punto di vista è ovvio che la sua è la strategia di Sansone muoia Sansone con tutti i filistei io cerco di alzare la posta di modo che ad un certo punto magari mi va bene e altrimenti andiamo tutti al creatore però dal suo punto di vista è comprensibile è incomprensibile dal nostro punto di vista che noi accettiamo di fare questa escalation un passo dietro l'altro perché questa ci porta tu dicevi prima le armi nucleari servono perché nessuno le può usare sai tanto per cominciare non dimentichiamoci che sono già state usate quando c'era uno che ce l'aveva gli unici che le hanno usate sono ah beh certo quando c'era uno che ce l'aveva però dal punto di vista morale quello rafforza l'idea no ma qui non è il punto di vista morale no questo è il punto di vista strategico quando c'è uno ma dal punto di vista strategico può essere benissimo che nel momento in cui tu metti una superpotenza come la Russia di fronte a magari appunto la prospettiva di avere una sconfitta militare e Putin si sa cosa succede in quei paesi lì non credo che sopravviverebbe lui e potrebbe fare appunto quello che abbiamo appena detto va bene moriamo noi e moriranno tutti ma è proprio per questo che Zelensky non può essere definito l'uomo più pericoloso proprio per quello che mi ha appena detto no no momento perché Putin però è lì da vent'anni ha gestito tutte le crisi analoga a queste senza grandi problemi ammazzato i giornalisti e ha detto l'altro una persona ma adesso no e questo non c'entra niente dal punto di vista globale come ha mantenuto il potere ma ho capito anche la legge di Zelensky è una cosa interna allora ci mettiamo a discutere di Assange o di Snowen ma sei tu che mi hai tirato fuori analogie con la Palestina che non c'entra nulla con la situazione cioè nel senso io dico che secondo me finirà in quel modo finirà congelando situazioni che sono tutte assolutamente inaccettabili da un punto di vista morale così come lo è quella dell'Ucraina oggi e ciò nonostante vengono accettate anzi le superpotenze continuano a spalleggiare coloro che l'accettano perché così non si muove nessuna carta in questo castello di carta che è l'equilibrio mondiale cioè il vero problema è questo se noi fossimo delle persone ragionevoli e qui mi lasci tanto ormai stiamo andando a finire uno può tirar fuori le proprie conclusioni se noi fossimo delle persone ragionevoli tanto per cominciare incomincieremo a riformare l'ONU perché ovviamente l'ONU in questo momento quando ci sono per esempio i cinque paesi che hanno il diritto di veto e tre di questi siamo noi semplicemente perché hanno vinto la guerra quando c'entrano la Francia e l'Inghilterra in un mondo come questo ma questo quello sono d'accordo non c'è la Cina non c'è l'India scuro la Cina non c'è l'India o il Brasile e così via riformato l'ONU si dovrebbe cominciare a dire bene siamo in una situazione magari in cui adesso non ci sono dei conflitti cerchiamo di risolvere i problemi che ci sono e che prima o poi esploderanno i palestinesi i tibetani i pakistani e indiani appunto in Kashmir e così via e quelle sono le cose e tra l'altro anche quelle l'Ucraina e la Russia e così via quello bisognerebbe fare se fossimo delle persone razionali invece nessuno lo vuole fare e sempre porre semplicemente il chi è più forte e il chi è più potente anche da un punto di vista economico purtroppo lo capisco e la forza è quella che ti permette di fare queste non a te naturalmente permette di fare a chi ce l'ha queste politiche però io preferirei un mondo invece in cui si ragiona in termini razionali da una parte e anche magari tra virgolette etici cioè cercare di dire ma è giusto quello che succede per esempio con i kurdi ecco l'ONU per esempio potrebbe anche decidere questo dice beh certo tagliamo 20% dalla Turchia 20% dalla Siria eccetera quello sarebbe risolvere i problemi ma nessuno vuole risolvere i problemi e allora i problemi prima o poi vengono al pettine e poi uno ci si scandalizza e dice ma come stanno facendo una guerra è ovvio non si cerca di risolverli è come quando si bisticcia ci si avvicina sempre di più ad un certo punto si cominciano a dare gli spintoni e poi si viene a pugni e anche peggio però dagli uomini diciamo così soprattutto civilizzati e tecnologizzati ci si potrebbe aspettare molto di più e io me lo aspetterei molto di più ma è il motivo proprio per concludere no? no intanto solo questo poi ti lascio la parola è il motivo per cui tanti di noi io stesso compreso a inizio 2022 fine del 21 quando c'era quell'ammassamento di armamenti sul confine ucraino dicemmo e io l'ho detto anche pubblicamente a me sembra un blef perché? perché presupponi sempre presupponi la razionalità però puoi dimenticarsi che nella catena causale delle cose l'aggressore è uno e l'aggredito è l'altro è molto rischioso è questa la vera cosa pericolosa perché poi siamo d'accordo che la situazione è complicata e non si sono non c'è mai un bianco e nero nell'ambito internazionale però l'equidistanza è oggigiorno per me è grave quanto l'equidistanza che alcuni potevano dire che poi non ho mai sentito qua in Italia nei confronti dell'Iraq cioè non si può essere equidistante c'è un aggredito attraverso un aggredito che ha un aggressore che ha utilizzato la sua forza militare contro ciò che sarebbe stato razionale contro ciò che sarebbe stato ragionevole tu mi dici io voglio un mondo ragionevole e io sono d'accordo Pier Giorgio madonna santa sono d'accordissimo però allora bisogna andare a vedere le cause e le cause non sono mica tutte sullo stesso piano non è sullo stesso piano il fatto che Zelensky nel 2019 abbia preso la carica promettendo la pacificazione e l'aggressione russa al territorio ucraino non sono cause sullo stesso piano e la vulgata propagandista dell'altra parte l'altra parte rispetto a quella che diciamo così a cui sento di dare voce io in questi mesi nel mio piccolo evidentemente l'altra parte continua a ripetere che le concause sono tutte sullo stesso piano che l'invasione del 2014 è sullo stesso piano rispetto ai trattati fatti dalla Merkel che le sanzioni a Putin cioè non sono equiparabili c'è uno squilibrio in questo momento e questo squilibrio sta portando la devastazione a una popolazione che democraticamente si è ravvolta verso l'Europa ora poi di nuovo è come ho detto prima uno può anche dirmi a me l'Europa non piace a me gli Stati Uniti non piacciono bisogna riformare l'ONU peraltro punto su cui sono d'accordissimo sono meccanismi vetusti il veto nell'ONU non ha più nessun senso quindi andiamo in quella direzione certamente non si può andare in quella direzione finché ci saranno nazioni che penseranno di poter risolvere le beghe territoriali con invasioni di stati sovrani democratici perché e qui mi ricollego una cosa che hai detto all'inizio certo che ci sono due tipi di guerre quelle combattute a distanza e quelle combattute a confine non è che quelle combattute a confine devono lasciarci indifferenti anzi sono quelle che poi si espandono a macchia d'olio sono quelle e quando questo avviene in un territorio democratico allora lì è un problema perché e di nuovo e poi poi ti lascio la parola andiamo a concludere perché questa live sta venendo molto più lunga del previsto però il punto da comprendere è che mi ha fatto scattare in quello che è successo in questi mesi è che c'è una differenza fra l'abbattere un regime come quello di Saddam l'abbattere un regime come quello di Gheddafi su cui possiamo essere d'accordo che sia stato un errore grave ma c'è differenza fra l'abbattere una dittatura l'abbattere una dittatura oppressiva e l'attaccare una democrazia e se noi non mettiamo un confine da questo punto di vista ed è questo ciò che io temo per il mio futuro è un mio timore ti dico è un mio timore totalmente soggettivo il mio timore è che se le sanzioni non funzionassero se l'aiuto all'Ucraina non dovesse funzionare e se domani fra un mese i russi arrivassero a Kiev e facessero secco Zelensky prendendo l'Ucraina e mettendo un governo fantoccio domani la democrazia che mi dispiace Pier Giorgio c'è io la vivo ogni giorno anche tu la vivi ogni giorno anche se sputiamo il piatto dove mangiamo perché la democrazia di Frenza del regime di Putin si fa criticare grazie al cielo questa democrazia allora si rischia veramente di non esserci più perché in giro per il mondo quella visione alternativa che sembra affascinare così tante persone è una visione a cui non piace la democrazia in ogni sua forma a cui non piace la suddivisione dei poteri a cui non piace il governo difettoso che in quanto difettoso in democrazia ci permette sempre di revisionare i processi democratici e che ci permette di fare questo infatti da qualche decennio e io ho questa roba qua questa indifferenza nei confronti di questo sistema qua che è in pericolo proprio per quello che dicevi prima perché l'attacco all'Ucraina non è una guerra territoriale è un attacco a una visione del mondo e io ti dico io mi sento di dare voce a questa cosa perché sento in pericolo il luogo e il sistema in cui io sento di appartenere con tutte le sue criticità e questo mi preoccupa molto ah no su questo sono d'accordissimo nel senso che capisco la tua posizione se uno vuole preservare questo status quo diciamo così che è il predominio dell'Occidente dal punto di vista politico militare economico e culturale allora certo fa benissimo a preoccuparsi e però non tutti siamo così io per esempio vorrei che non ci fosse nessuno di questi quattro predomini non perché vorrei che ce ne fosse un altro ma perché vorrei che ci fosse un mondo in cui ciascuno si sceglie il proprio modo di vivere e non va a imporlo al resto del mondo cosa che l'Ucraina aveva fatto cosa che l'Ucraina aveva fatto momento poi tu hai detto aspetta poi tu hai detto una serie di cose che sono che sono classiche e che sentiamo ripetere da un anno e mezzo un paese democratico che è stato aggredito ma dunque anzitutto la Ucraina era così poco democratica che non passava gli standard per poter entrare in Europa non è che non ci sia entrata prima perché non la si voleva ma perché c'erano gli standard minimi che l'Ucraina non passava era un paese corrotto in cui anche adesso tra l'altro in cui l'opposizione non esiste è stata messa fuori legge e così via secondo se si voleva evitare la guerra si poteva fare quello che io proponeva gli inizi cioè non cercare stupidamente perché poi è sempre così quando lo si fa non solo quando lo fa l'Ucraina di preservare i confini appunto che sono prima di tutto casuali perché l'Ucraina ricordiamoci era una prima sotto l'impero russo non esisteva sotto l'Unione Sovietica era una provincia sarebbe come se poi un giorno noi facessimo una guerra e la Lombardia difendesse con i denti i confini col Piemonte che non sappiamo nemmeno dove sono ma poi no è così e terzo aspettano la cosa importante sarebbe stata semplicemente accettare l'autonomia delle popolazioni del Donbass e del Nuas esattamente come sarebbe sensato e non lo è e non e diventerà un problema ancora maggiore dell'Ucraina accettare l'autonomia di Taiwan la Cina sta chiedendo da decenni di dire che tutti gli stati del mondo hanno accettato il fatto che Taiwan non esiste e infatti non appartiene all'ONU e formalmente non è nemmeno uno Stato è una provincia cinese che gli americani dicono è vero c'è un solo Stato con due sistemi ma noi accettiamo che loro abbiano delle rivendicazioni di indipendenza mentre invece sono proprio le autonomie quelle che evitano le guerre se invece di continuare a fare la guerra dal 2014 al 2022 l'Ucraina prima di Zelensky ancora ma poi anche con lui avesse avesse incominciato appunto a dare autonomia a quelle regioni non si sarebbe arrivati a questo punto tu dici che non sappiamo che cosa voleva Putin e tu non credevi che lui non sapevamo cosa voleva Putin e tu non credevi che lui avrebbe invaso ma bastava guardare il film l'intervista che gli ha fatto Oliver Stone ha parlato per quattro ore ed era chiarissimo quali erano i suoi problemi ed era il 2015 e quindi siamo noi che non abbiamo voluto non abbiamo voluto sentire e non vogliamo sentirla adesso a Taiwan poi ci stupiremo quando poi la Cina che sta cominciando a spingere sull'acceleratore farà delle azioni militari oppure addirittura un'invasione e va bene i problemi non si vogliono risolvere ad un certo punto si risolveranno semplicemente perché ci andiamo a sbattere ma per concludere visto che stiamo a concludere a me interessa di più anche che non la questione ucraina il problema è sul nostro modo di vita ho detto prima che io non condivido questo questo aspetto predatorio dell'Occidente nei confronti del mondo e le mie soluzioni che sono soluzioni esattamente come quelle della guerra che nessuno starà a sentire e ovviamente non saranno mai implementate sono che i problemi in questo caso del mondo l'enorme popolazione la crescita della popolazione la crescita della produzione la crescita dei consumi se vogliamo effettivamente pensare alla lunga cioè pensare di poter mandare avanti questo mondo magari per secoli o per millenni come d'altra parte in piccola parte è stato in precedenza dobbiamo capire che bisogna calmierare la popolazione c'è un unico modo per calmierare la popolazione non è possibile sterilizzarli come ha cercato di fare la signora Indira Gandhi non è possibile ovviamente meno che mai sterminarli così l'unico modo per fare calmierare la popolazione abbattere le nascite è quello di far arricchire i paesi poveri se l'Occidente con tutta la sua ricchezza accettasse di consumare un po' di meno di vivere magari un tenore di vita un po' più basso e accettassi per crescere gli altri prima non avremmo l'immigrazione dopo un po' perché ovviamente la gente se ne starebbe a casa sua e soprattutto poi dovremmo capire che e mi stupisce che un filosofo non possa essere d'accordo su questo quindi probabilmente lo sarai che i veri valori ma non sono quelli economici anche se oggi nel nostro mondo occidentale sembra proprio di sì tutto quello che noi sappiamo dire è che noi abbiamo un PIL più grande che il nostro PIL deve crescere e che poi vogliamo che anche gli altri paesi aumentino il loro PIL eccetera ma non tutti i paesi sono interessati ad aumentare il PIL per esempio il Bhutan che è un paese illuminato anche perché è una piccola regione loro parlano del PIL che a noi può sembrare una cosa senza senso la felicità interna lorda non il prodotto interna lorda e questa è la mia visione sono quattro gatti lo so e infatti dovremmo diminuire la popolazione per questo qualca miseria ce n'è da fare per diventare come il Bhutan Pier Giorgio ce n'è da fare tanto ma allora hai detto delle cose in conclusione che cercherò di rispondere brevemente poi veramente andiamo a concludere poi potremo fare un'altra volta senza più la guerra ma ben volentieri il modo di vita occidentale senza la guerra io vorrei ricordare vorrei ricordare io sono assolutamente d'accordo sul fatto che non è certo l'economia il valore l'economia è uno dei metodi di misurazione dei valori e questo è stato molto chiaro ci sono tantissimi filosofi che ne parlano di questo e in realtà l'economia è uno dei parametri con cui noi cerchiamo di misurare per esempio una cosa come il benessere là dove il benessere non è stare davanti alla televisione il benessere è di nuovo avere una progettualità di vita che mi permette di pensare i prossimi sei mesi l'economia cerca di misurare questo il pil che cos'è il pil non è quanti soldi ho in tasca il pil è quanto in avanti io posso vedere e questo che ci piaccia o meno è legato anche al fil tu puoi avere tutta la filosofia del mondo puoi avere tutta la felicità dentro di te del mondo però se poi sei sempre impegnato a chiederti che ne farai di te stesso domani e dopo domani la tua felicità comunque decresce drasticamente e quindi per quanto l'economia non sia il motore e la causa della felicità è sicuramente un parametro che ci permette di collocare almeno qualche concetto e portarlo giù in terra perciò io non sono affatto a parte che non sono un economista e non sono neanche un mercatista del tipo il mercato è la felicità no però l'economia ci dà delle misurazioni e in questo secolo abbiamo mostrato che queste misurazioni non sono ovviamente perfette perché non sono il territorio sono la mappa ma ci permettono di collocare qualche concetto e capirne qualcosa di più di cosa vuol dire avere un progetto di vita sulle cose che hai detto accanto a questo io ti dico il fatto che l'Ucraina non avesse degli standard a livello europeo significa semplicemente che l'Ucraina era in un processo e non la rende degna di essere invasa cioè il fatto è che il fatto è che l'Ucraina si stava modernando soprattutto dopo il 2008 2011 era un paese che stava andando in una direzione di nuovo a modernamento e democrazia sono due cose diverse ma stava anche democratizzandosi i diritti civili si sono ampliati in Ucraina negli ultimi 15 anni in modo drastico i diritti di partecipazione democratica la suddivisione dei poteri io vorrei ricordare che ci sono tre leggi fatte negli ultimi sette anni in Ucraina che vanno nella direzione proprio di rendersi sempre più vicini a quei criteri di appetibilità per l'Unione Europea che voglio ricordare la Polonia per esempio negli ultimi tre anni ha rivisto al ribasso la Polonia ha rischiato anzi è stata multata dall'Unione Europea perché ha ammesso amminato alla base la suddivisione di potere fra giudiziale e legislativo l'Ucraina stava andando in direzione diversa e anche questo è un aspetto che in qualche modo andava ad alimentare la paura che l'Ucraina sarebbe diventata sempre più europea ora l'Ucraina era in quel processo che ci piaccia meno e lo era democraticamente non era una democrazia perfetta perché? perché veniva fuori comunque da una storia incredibilmente complessa di Unione Sovietica e poi quel processo di insomma lo sappiamo bene non stiamo qua che è inevitabile l'Italia è un paese corrotto pensate l'Ucraina dopo in questo decennio cosa poteva essere dopo Yanukovic e tutto quello che c'è stato quindi il fatto che fossi in un processo di democratizzazione che è comprovato da quello che stava accadendo all'interno del paese non vedo in che modo dovrebbe renderla più appetibile a un'invasione questo anzi rafforza ciò che dicevo sull'appartenenza di altre nazioni alla Nato Polonia Ungheria e via dicendo dopodiché hai parlato di predominio dell'Occidente da un lato io sono d'accordo l'Occidente nella forma soprattutto degli Stati Uniti l'abbiamo detto quando ha fatto il Ranger del Mondo hanno mostrato i muscoli hanno fatto casino non c'è dubbio però vorrei anche ribadire che da filo occidentalista a me piace Iver a casa mia cosa vuoi che ci faccia non so se il Veneto è così tanto occidentale come altri posti ma sicuramente sicuramente in questo in questo Occidente riconosco un fattore che è ciò che mi permette di dire questo può dare un futuro a una visione anche globalista con tutte le crisi che ci sono in mezzo in questa visione ed è il rispetto del diritto internazionale Putin non ha nessun rispetto del diritto internazionale ora un matematico un logico come te ma chi ce l'ha ma come chi ce l'ha ma l'abbiamo detto prima scusami gli Stati Uniti hanno fatto 100 interventi negli ultimi 30 anni 100 interventi al mondo si ma non sono mica state tutte invasioni criminali o poi come no scusami ma ho capito ma il fatto di dire questo la Siria la Libia beh la Siria ma il fatto di dire questo ma il fatto di dire questo deve ma il fatto di dire questo allora deve dire ah vabbè allora lasciamo l'Ucraina a Putin cioè è questo che non mi capace quante volte si è mossa la corte internazionale dell'AIA quante volte si è mossa contro i capi di stato di quelli che facevano queste guerre compresi noi tra l'altro nessuno allora capisci che qui è avere due pesi e due misure che è quello che ci criticano naturalmente in mezzo mondo cioè dice ah certo voi fate le stesse cose che tra l'altro se posso poi dire questa è una cosa forse che non piacerà a tanti ma anche dopo la seconda guerra mondiale quando ci fu il processo di Norimberga alla sbarra del processo di Norimberga c'erano i criminali nazisti uno dei quali disse molto chiaramente non so se era Guiorengo o qualcun altro ma che disse molto chiaramente oggi ci siamo qui noi perché abbiamo perso la guerra ma se aveste perso voi la guerra ci sareste qui voi per gli stessi crimini ed è questa la cosa interessante e noi non vogliamo capire e soprattutto il problema è che era una menzogna questa il problema è che era una menzogna no no mica tanto mica tanto mica tanto mica tanto perché quello che è successo quello che è successo per esempio a Dresda o ad Hamburgo o a Hiroshima e Nagasaki per esempio i numeri contano qualcosa i numeri contano qualcosa i numeri ma è questo il fatto ma ho capito ma era una menzogna quella di Goering e Eichmann era una menzogna non è vero non era una menzogna le leggi razziali per esempio sai dove le avevano presi i nazisti le avevano copiate tale quali dagli Stati Uniti perché nella prima parte nel primo terzo degli anni del novecento la maggioranza degli Stati Uniti credo che fossero 26 degli Stati aveva leggi contro gli ebrei contro gli zingari contro gli omosessuali e così via le leggi naziste sono state copiate tale quali di lì non c'era nessun progetto di sterminio di una razza non c'era nessun progetto di sterminio di una razza guarda qui stiamo qui stiamo andando secondo me qui stiamo andando qui stiamo rischiando i campi di concentramento qui stiamo andando in una direzione per i giapponesi per esempio durante la guerra mondiale negli Stati Uniti bisogna stare attenti a non pensare che noi abbiamo la verità il nostro sistema è quello buono i nostri valori sono quelli buoni ci tocca andare avanti a portarli nel resto del mondo è quello che pensavano gli inglesi quando Kipling diceva il fardello dell'uomo bianco noi abbiamo l'impero perché dobbiamo insegnare agli indiani ad avere una cultura e non è così basta guardare come ci guardano gli altri tu prima hai citato gli indiani per esempio io guardo regolamenti i telegiornali indiani ma tu senti che cosa dice il ministro degli esteri indiani Jay Shankar che tra l'altro è un parlatore eccezionale eccetera quando ci dice che noi abbiamo due standard due pesi e due misure e che vogliamo dire a loro che cosa dobbiamo fare che cosa loro devono fare per esempio nei confronti del commercio con la Russia quando siamo noi che non lo facciamo noi ci siamo fatti le sanzioni ritagliando in maniera chirurgica tutto quello che ci serviva e poi dopo andiamo a dire agli indiani che non devono comprare il petrolio perché quello l'abbiamo messo sotto sanzione noi potevamo prenderlo da un'altra parte e quello è molto interessante stare a sentire che cosa dicono gli altri compresi i nostri nemici perché noi pensiamo di avere tutte le ragioni che loro abbiano tutti i torti ma se uno va a sentirli poi uno dice ah un momento ma a me l'hanno raccontata diversamente la cosa il motivo per cui citavo il film di Oliver Stone è perché di fronte ai Putin che dice effettivamente quello che pensa o perlomeno quello che ci vuole far sapere le sue motivazioni e questo era molto prima della guerra e così si fa altrimenti si finisce di fare e poi tra l'altro per finirla sulla democrazia tu dici sì c'è questa bella democrazia ma io sono felice che tu stasera mi hai lasciato dire queste cose ma per esempio sul giornale dove scrivevo fino a un anno un anno e mezzo fa che è la stampa di Torino queste cose non le posso dire perché dal primo giorno il direttore mi ha detto queste posizioni io non le accetto ora sì è vero abbiamo la libertà di parola infatti io posso parlare però sappiamo che non è che parlando a casa propria o tra noi possiamo dire Pier Giorgio possiamo dire però molto molto tranquillamente che per quanto ci sia è la stessa cosa che ho detto anche sul caso di Rovelli alla fiera di Francoforte lì è stato fatto un pasticcio comunicativo non c'è alcun dubbio io dico quello è una stupidaggia io dico due cose uno se uno ha un giornale e via dicendo c'è una sensibilità e si sente dire da qualcuno io per esempio ma chi ce l'ha i giornali è questo il problema tante volte tante volte io che sono sostenitore dello sforzo bellico per aiutare l'Ucraina mi sento dire che sono un mercante di morte mercante di armi una persona che sente dire questo magari c'ha il blog il giornale il canale dice io con te non voglio interloquire però dall'altra parte non mi sembra che gli ambiti in cui esprimere la tua vostra opinione vi manchino anzi ti dico in televisione io cose simili a quelle che hai detto tu le ho sentite molto più spesso rispetto alla controparte io ho argomentazioni serie storicamente attendibili e anche ben delineate sull'appartenenza alla Nato sul ruolo della Nato e via dicendo le ho sentite veramente pochissime e di solito c'erano soltanto ciarlieri che le sparavano grosse un po' come sempre volevo soltanto cioè nel senso volevo soltanto dire una cosa finale perché mi sembra importante ricordiamoci che i campi di concentramento americani per giapponesi non erano campi di sterminio cioè di nuovo attenzione perché quello è un argomento molto delicato perché di nuovo non tutte le cause bisogna dirlo ma quelli degli inglesi in Sudafrica sì però non c'è cioè è una magnitudo ma è una magnitudo completamente diversa cioè nel senso siamo su livelli totalmente diversi però vabbè al netto io non voglio non voglio entrare in questo ambito perché sennò veramente non usciamo questo è un altro argomento certo allora io credo che abbiamo decisamente sforato il tempo che ci eravamo dati io Pier Giorgio grazie per aver portato siamo perlomeno siamo stati civili siamo stati civili questo questo è sicuramente una guerra civile questo è sicuramente una cosa che ci fa onore io ti ringrazio del tuo tempo e io spero che in futuro riusciremo a fare una bella cogitata dal vivo e magari su argomenti che amiamo e non argomenti che odiamo quindi parleremo di matematica di scienza e via dicendo e non vedo l'ora che questo avvenga intanto ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi speriamo che all'epoca non ci sia più questa situazione guarda spero che si risolva da tutte e due le parti spero che si risolve il prima possibile su questo siamo assolutamente d'accordo almeno ci saranno molte meno persone che soffrono per una situazione che sicuramente non si sono scelte quindi grazie mille Pier Giorgio io ti mando un abbraccio e ci risentiamo presto grazie a voi arrivederci e grazie per l'invito e per l'attenzione ciao ciao